Vi ricordate della discarica abusiva sorta nella zona Asi di Agrigento? Adesso, su ordine della Procura della Repubblica, gli uomini del locale di staccamento del corpo forestale, coordinati dal comandante Carogero Camarata, hanno eseguito specifici controlli per risalire ai responsabili dello scempio prodotto in territorio di Aragona. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi. Le verifiche hanno portato all'accertamento di oltre 40 illeciti e ciò che fa specie è come ad abbandonare rifiuti in strada, anche speciali. In buona parte siano imprenditori che operano proprio in quel lembo di territorio. 16 sono stati responsabili di società con sede nella zona industriale di Agrigento a essere stati denunciati. Adesso rischiano l'arresto fino a tre mesi e una multa che può anche arrivare a 26.000 euro. Altri 16 rappresentanti di DIT invece sono stati solo sanzionati. Gli uomini del corpo forestale hanno poi inviato comunicazione al comune di Aragona, che dovrà occuparsi della bonifica dell'area.